A me sta cambiando veramente la vita. La tecnica Natural Mixing si presta bene a preparare la voce per diversi stili musicali ed il linguaggio con cui si può spiegare all'allievo è davvero molto semplice. Ho visto i risultati ovviamente su di me e poi sui miei allievi. Ho cambiato l'attenzione sui particolari tecnici degli allievi. Mi sento di aver dato più valore nelle mie lezioni. Sono molto più veloce nel vedere i risultati a mia volta sugli allievi. Marco è davvero molto paziente ed incoraggiante non solo per le sue qualità empatiche ma anche per l'amore per il canto che riesce a trasmettere tra un no 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 e l'altro. Tutto così. Mi sta dando la possibilità di realizzare lavorativamente il mio sogno, vivere di musica. E magari un giorno diventare come lui. Ecco.